Immaginate una tipica città del centro Italia, una famosa per i suoi monumenti, per le sue strade, per i suoi piatti tipici. Immaginate una città dove ci sono sempre tanti turisti e tanti studenti, dove le persone vanno in giro in bicicletta, si conoscono bene e si salutano tra loro. Una città dove non succedono quasi mai cose brutte, una di quelle che non si vedono mai sui giornali per un omicidio, una rapina o cose simili. Una città da cartolina almeno per dieci mesi all'anno, diciamo da settembre a giugno, perché nel mezzo, in estate, cambia tutto. E non perché arrivino molti turisti, cioè i turisti arrivano, ma non è quello il motivo. Il fatto è che questa città, ogni anno, da circa 500 anni, porta avanti una tradizione che coinvolge moltissimo i suoi cittadini. Nonostante le sue origini storiche, i costumi medievali, i rituali e le parole antiquate, non è un evento di ricostruzione storica, non è folclore da offrire ai turisti, ma un evento che, per gli abitanti locali, fa parte della loro identità. Forse lo avete già capito di quale città sto parlando. Questo è l'episodio 168 di Salvatore Racconta, un podcast settimanale in lingua italiana un po' semplificata, scritto e prodotto da me, Salvatore, un insegnante di italiano per stranieri, pensato per tutte le persone che conoscono, studiano o parlano l'italiano, ma non sono madrelingua e cercano contenuti del loro livello, ma soprattutto interessanti e autentici sull'Italia. Se vi piace quello che faccio, potete lasciare una recensione a 5 stelle su Spotify e poi abbonarvi alla versione premium su Patreon. Con un abbonamento mensile che costa quanto una pizza, potete aiutarmi a continuare questo progetto e accedere a tanti contenuti esclusivi. C'è un link in descrizione. L'episodio di oggi è dedicato al mio fedelissimo ascoltatore Andres, che vive in Argentina e non si perde mai un episodio del podcast. Mi ha chiesto di spiegare, nello stile di Salvatore Racconta, un fenomeno italiano molto peculiare. E quindi oggi proviamo a parlare dell'evento che per due mesi all'anno trasforma una città intera. Parliamo del Palio di Siena. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com slash Salvatore Racconta. Ma per il momento, buon ascolto! Partiamo dalla città di Siena, nel cuore della Toscana, uno dei posti più famosi e amati in Italia dai visitatori. Oggi è una città relativamente piccola, ospita circa 50.000 abitanti, ma ha molte cose di cui i locali vanno o andavano orgogliosi. Per esempio l'università, una delle più antiche d'Europa, oppure la banca locale, il Monte Paschi Siena, che ha una storia un po' controversa, ma comunque è l'istituto di credito più longevo del mondo. Ma quasi sicuramente, se chiedete a una persona di Siena qual è la cosa più importante per la sua città, risponderebbe il Palio. Che cos'è il Palio? Beh, per dirla molto breve, una corsa di cavalli. Ma descriverlo così è molto semplicistico e anche offensivo. Nonostante Siena non sia una città molto grande, è divisa in ben 17 quartieri, che qui si chiamano contrade. Ogni contrada ha un nome storico e una bandiera. Ognuna di loro è governata da un priore, una persona che ha il compito simbolico, ma anche operativo, di conservare il materiale che appartiene alla contrada. Bandiere, dipinti, libri, documenti e, naturalmente, anche tutto quello che serve per partecipare al Palio. Anzi, ai pali. Una cosa che forse non tutti sanno, infatti, è che il Palio di Siena si tiene due volte all'anno in due date precise. Il 2 luglio, nel giorno della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto, nel giorno della Madonna Assunta. Le date sono riferite a feste religiose, come è normale per una tradizione che risale al Medioevo. Ma il Palio, oggi, è un evento totalmente laico. Anzi, la sua brutalità e il linguaggio usato da molte persone sono, come dire, poco rispettosi della religione. Un altro dettaglio importante. Il Palio si tiene sempre nella famosissima Piazza Centrale di Siena, Piazza del Campo, che, per l'occasione, viene riempita di sabbia e recintata. Il cuore di una delle città più belle d'Italia, per due giorni all'anno, diventa il teatro di una gara piena di rivalità e ferocia. Perché una corsa di cavalli? Sembra una buona domanda. La verità è che la domanda giusta è perché no. Il Palio di Siena è il prodotto culturale di un'epoca in cui andare a cavallo era una cosa normale per le persone di famiglie benestanti o nobili, e i cavalieri erano molto rispettati. Quindi, oggi, una corsa a cavallo rispecchia bene i valori e i simboli antichi che le contrade ancora oggi portano avanti. La gara del Palio di per sé dura pochi minuti in tutto. I cavalli devono fare il giro della piazza del campo per tre volte e vince chi arriva per primo. Molto semplice all'apparenza, ma il rituale che porta a questo risultato è lungo e complesso. Innanzitutto, a ogni edizione del Palio partecipano dieci contrade su diciassette. C'è un criterio per decidere quali parteciperanno e quali no a ogni edizione. Ma vi chiedo scusa? Però, sinceramente, io non l'ho capito. A ogni modo, tre giorni prima del Palio, i rappresentanti delle dieci contrade partecipanti si incontrano per il primo rito ufficiale. La tratta. In quel momento si sorteggiano i cavalli che parteciperanno. Le contrade, infatti, si preparano tutto l'anno, ma non sanno mai in anticipo quale sarà il loro cavallo. Potrebbe essere uno buono come uno meno buono e questo fattore potrebbe cambiare totalmente il risultato della gara. Da quel giorno cominciano diverse prove durante i quali le contrade prendono accordi con i fantini, cioè con le persone che cavalcheranno i cavalli, i piloti, diciamo. In passato c'era un rapporto di fedeltà tra i fantini e le contrade. Oggi le cose sono cambiate e il fattore economico è diventato più importante. In pratica, i fantini migliori partecipano con le contrade che li pagano di più o scelgono la contrada che ha il cavallo che gli sembra migliore. I giorni di prove sono anche giorni di trattative, di grandi eventi simbolici che riguardano ogni contrada e l'atmosfera per le strade della città diventa elettrica perché la partecipazione delle persone è autentica e potente. È tutto un crescendo di emozioni fino al giorno della gara, il giorno del palio. Come dicevamo la gara finisce in un amen, ma Siena si prepara con una processione quasi mistica che dura ore e ore. Le contrade partecipanti entrano in piazza, mostrano i propri simboli, il cavallo, le bandiere. Poi i cavalli e i loro fantini si preparano a mettersi in posizione per la partenza. 9 su 10 partono in linea, il decimo invece parte da più lontano, apparentemente uno svantaggio, ma anche un vantaggio perché il movimento del decimo decide l'inizio vero della corsa. Comincia un minuto e mezzo, al massimo due, di follia pura, a volte violenta, spesso controversa. Se pensavate che fosse una competizione simbolica, tanto per giocare e mostrare un po' di colori, sbagliavate di grosso. La voglia di vincere è vera. I fantini hanno in dotazione un frustino che possono usare per spronare il proprio cavallo, ma anche per colpire gli avversari. Ci sono molte persone e associazioni animaliste che chiedono la cancellazione del palio perché la salute dei cavalli è seriamente a rischio. È probabile, e anzi frequente, che alcuni cadano, a volte con conseguenze gravi. Non è mai morto nessun fantino al palio, ma i cavalli sì. Negli ultimi 50 anni, una media di uno all'anno. Ma il palio va avanti nonostante tutto. I cavalli che restano in piedi senza fantino partecipano anche loro alla gara. Si chiamano scossi e possono vincere. Non succede troppo spesso, ma a volte capita. L'ultima volta è stato nel palio di agosto del 2023, quando alla fine di una gara incredibile, ha vinto il cavallo scosso della contrada dell'Oca, mentre il suo fantino era per terra già dopo il primo giro. Per la contrada vincitrice, la conquista del palio è un motivo di grandissimo orgoglio e di euforia incontrollabile. I contradaioli vincenti esultano come tifosi di calcio dopo la vittoria di una coppa. Forse anche di più. E poi, dopo il palio di luglio, l'atmosfera rimane elettrica ancora per un mese e mezzo, in attesa di quello di agosto. Mentre dopo quello di agosto, la città si calma un po', almeno all'apparenza, per prepararsi ai pali dell'anno successivo. L'elemento davvero speciale del palio di Siena è la partecipazione attiva degli abitanti della città. In Toscana ci sono moltissime tradizioni antiche e medievali che le persone continuano a portare avanti. Alcune sono anche molto belle ed emozionanti, ma la verità è che durano poco, finiscono subito e riguardano davvero solo i pochi appassionati che partecipano. Il palio è diverso, coinvolge tutta Siena tutto l'anno. Appartenere a una contrada invece che a un'altra è molto importante, decisivo anzi, e dipende dal luogo di nascita ovviamente, ma non solo. Un tempo era normale nascere, vivere e morire sempre nella stessa casa. Oggi invece trasferirsi, cambiare quartiere o anche cambiare città fa parte dell'esperienza di vita di moltissime persone. E a Siena come si fa? Non c'è una regola scritta. Io mi affido alle cose che mi hanno detto alcune persone che vivono o hanno vissuto lì. Mi hanno detto che appartenere a una contrada è più un fatto sociale che geografico. Riguarda soprattutto le persone che frequenti e la volontà di partecipare alla vita della contrada stessa. Se cambi casa dopo tanti anni, non devi certo cambiare contrada. Anzi, è una cosa quasi scandalosa. Perché tra le contrade c'è un forte senso di rivalità che vive tutto l'anno con scherzi e sfottò, ma che diventa particolarmente intensa proprio nei giorni del palio. In quei giorni si scaldano gli animi con facilità ed è possibile che due persone o gruppi di persone litighino proprio come farebbero due gruppi di tifosi di calcio se si incontrassero per strada prima di una partita. Per questo motivo, le persone che conosco a Siena mi hanno detto che può essere imprudente per un turista camminare per la città nei giorni del palio con una bandiera o un foulard di una contrada in particolare. Se si incontrassero delle persone di una contrada rivale, potrebbero esserci delle conseguenze spiacevoli. In generale, i senesi e le senesi sono molto felici quando le persone che arrivano da fuori si interessano al palio. Per loro è un motivo di grande orgoglio. Allo stesso tempo, lo prendono molto ma molto sul serio e quindi non apprezzano che i turisti partecipino in modo leggero o inappropriato. Come dicevo prima, portare i colori di una contrada precisa non è un gesto neutro e ovviamente non è neutro nemmeno tifare per una contrada precisa. Quindi bisogna pensarci bene. I contradaioli più accaniti non sono felici se qualcuno tra il pubblico alza le braccia per fare una fotografia e quindi blocca la visuale dietro. Anche in questo caso le reazioni possono essere poco piacevoli. Insomma, il modo migliore per godersi il palio di Siena è andare lì con rispetto e curiosità senza comportarsi troppo da turisti. Siena è aperta e i suoi abitanti, soprattutto quelli della contrada vincitrice, saranno ben felici di accogliervi. È possibile partecipare alle attività delle singole contrade. Andare a cena con quelli del drago o con quelli della lupa, amare i colori dell'onda o le bandiere della pantera. L'importante è farlo con amore, con passione e con rispetto. Chi ama il palio di Siena ama Siena e i senesi di solito ricambiano. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!